Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video oggi siamo qui per parlarvi di un tema un po' diverso dal solito infatti parliamo in certi versi di motori infatti oggi voglio parlarvi del MIMO di Milano Monza Motor Show un evento che si è tenuto tra il 16 e il 19 giugno appunto tra Milano e Monza in particolare ovviamente si è concentrato tra le zone del centro del capoluogo Lombardo e le zone adiacenti all'autodromo di Monza quindi signori intro e lasciate che vi parli un po' di tutto quello che c'era e delle cose che in più mi hanno stupito di questo evento allora io non ho visitato la parte di Monza anche se lì c'è stato sicuramente interessantissimo l'arrivo della Mille Miglia con un sacco di macchine anche storiche veramente bellissime c'è stato un mio amico che ha detto che si sono viste macchine dal valore veramente altissimo ma soprattutto macchine stupende mentre ho avuto modo di visitare personalmente ciò che si è tenuto a Milano nella giornata di domenica in particolare la maggior parte delle macchine si concentravano intorno alla zona del Duomo ovviamente e lì devo dire che ho trovato macchine veramente interessanti a partire da diverse Ferrari se non sbaglio c'era la F12 TDF vorrei dire una cavolata un paio di Aston Martin la McLaren Senna che è una macchina che a me piace tantissimo poi c'erano sicuramente bellissime la 296 GTB la macchina che ha presentato Ferrari se non sbaglio lo scorso anno una macchina fantastica che reincarna un po' il motore sviluppato per la Formula 1 infatti monta un V6 ibrido con caratteristiche spaziali ed è una macchina sicuramente molto moderna che mostra una nuova linea che sta prendendo Ferrari che a me piace tantissimo poi di fantastico c'erano anche sicuramente le tre Pagani che erano esposte c'era la Pagani Imola la Waira NC e la Waira BC Roadster tutte macchine dal valore quasi inimmaginabile infatti soprattutto nel caso della Pagani NC si parla di un prezzo non noto al pubblico ma superiore di certo ai 5 milioni di euro realizzato in un unico esemplare che era di quel giorno io ho avuto modo di vederlo di parlare anche con una signora disponibilissima che ci ha raccontato un po' anche tutta la storia di Pagani come azienda ma soprattutto anche di Horacio Pagani il fondatore ed è stato veramente proprio questo secondo me il bello di questo evento poter parlare anche con le persone che c'erano lì c'è stato veramente tanta possibilità di parlare anche con persone più esperte di noi che ci hanno raccontato un po' quello che stavamo guardando quindi c'è davvero si percepia tanto questa passione e la possibilità di conoscere di più riguardo a questi mezzi stratosferici che erano esposti appunto per le vie di Milano molto interessante è anche il robot della Boston Dynamics che poco c'entrava con le auto ma essendo sotto proprietà se non sbaglio di Hyundai era dicendo anche al loro stand è simpatico questo robot simile a un cagnolino un po' inquietante a volte quando ti guarda però veramente divertente stare attorno a quello stand e poi altro punto molto molto interessante era la possibilità dei simulatori che si trovavano vicino a Piazza San Babila in una piazzetta laterale dove appunto c'è questo stand fatto da Gran Turismo insieme ad altre associazioni che permetteva di provare questi due simulatori piuttosto semplici ma comunque abbastanza bellini collegati alla Playstation 5 sì perché ovviamente girava su Gran Turismo 7 e c'era la possibilità nella mattinata di provare a fare dei giri tranquillamente con macchine normali su un circuito mentre nel pomeriggio iscrivendosi si poteva partecipare a un concorso che aveva in premio niente meno che una giornata all'opadromo di Monza a provare una macchina che era la Suzuki Swift Sport sì l'avevo detto malissimo fa niente insomma si poteva provare questa macchina in versione rally sul circuito da rally di Monza quindi veramente fantastico tutto ovviamente come premio di questo concorso la cui partecipazione era gratuita io l'ho provato ho fatto veramente schifo ma fa niente però era anche bello che ci fosse lì come esaminatori un campione del mondo di rally e il campione proprio di Gran Turismo due persone disponibilissime io sono stato giudicato diciamo così dal campione di Gran Turismo ma è una persona veramente simpatica che ha parlato anche con noi spiegandoci un po' come corre tutto gli strumenti che usa ci ha raccontato anche un po' cosa le pensa dei vari giochi di simulatori insomma è stato veramente molto bello poter parlare con una persona comunque molto esperta in quel gioco ma che si è dimostrata amica e veramente disponibilissima quindi niente signori questo qua è un video un po' così per riassumervi quello che secondo me è stato un evento molto interessante ho avuto modo di partecipare mi sembrava carino raccontarvelo in un video quindi spero vi sia piaciuto fatemi sapere se vi posso interessare anche video di questo tipo niente signori ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti ciao a tutti Grazie per la visione!